Ciao ragazzi, bentornati al Mazzegnale! Oggi parliamo di criteri di divisibilità. Perché se vi ricordate, ne avrete visti tantissimi tra gli elementari, le medie e le superiori. Avrete visto quello per 2, quello per 3, per 4, per 5, qualcuno avrà visto quello per 11, perché sono quelli che principalmente si studiano perché sono i più semplici. Poi c'è anche quello per 7 o quello per 13, ma non li studio quasi mai nessuno. Ma la domanda che ci poniamo oggi è c'è un modo generale per costruire un metodo per capire se un numero è divisibile per un altro oppure no? Oggi vediamo una potenziale risposta. Andiamo a scoprirla! Prima di iniziare, un'osservazione. Non è che questo sia il metodo in assoluto per poter controllare la divisibilità di un numero per un altro. È uno dei metodi, ma è molto carino secondo noi. Ne avevamo già trattato un altro in questo video in cui abbiamo parlato di un metodo inventato da uno studente di prima liceo. Il metodo che prendiamo oggi è tratto e ispirato da un articolo di Tania Covanova sul suo blog che trovate in descrizione. Su cosa si basa? Su dei grafi. Ad esempio, questo che vedete in immagine è il grafo della divisibilità per 7. Ora, prima di svelarvi come si costruisce questo grafo, vi spieghiamo come si utilizza. L'idea è questa. Avete dei puntini di cui uno è colorato in modo differente. Quello sarà il nostro puntino iniziale. Poi avete delle linee che collegano i vari puntini, che possono essere di due colori, verdi o blu. Immaginiamo di voler vedere la divisibilità di 1468 per 7. Abbiamo il grafo e procediamo in questo modo. Partiamo dalla cifra più a sinistra, in questo caso quella delle migliaia, che è il nostro 1. E dal puntino base ci spostiamo di una linea blu, finendo lì. Ora dobbiamo cambiare cifra, quindi dobbiamo spostarci dalle migliaia alle centinaia. Quando ci spostiamo di una cifra, seguiamo dal puntino dove siamo arrivati una linea verde. Quindi ci spostiamo. Da dove siamo arrivati seguiamo le linee blu in base al numero delle centinaia. In questo caso 4, quindi 1, 2, 3, 4. Siamo finiti qui. Dobbiamo anche in questo caso spostarci. Seguiamo un'altra linea verde. Ci spostiamo di 6 linee blu questa volta, perché le decine sono 6. E siamo arrivati qui. Infine seguiamo l'ultima linea verde che ci porterà a poter calcolare le unità. Ci spostiamo di 8 unità. E siamo arrivati qui. Bene, siccome il puntino su che siamo arrivati non è il puntino base da cui abbiamo iniziato, il numero ottenuto non è divisibile per sé. Magia? Nah, matematica come al solito. Andiamo a vedere sotto sotto che cosa c'è. Per svelarvi come viene costruito il grafo, dobbiamo per prima cosa mostrarvi questi numeri. Come potete vedere, i numeri vanno da 0 fino a 6. E lo 0 è il nostro pallino iniziale. È così stupefacente che i numeri vadano da 0 a 6? Forse no, perché state dividendo per 7 e quando dividete per 7, come il resto, potete ottenere 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Già si comincia a intravedere qualcosa. Guardiamo le linee blu. Le linee blu partono dallo 0 e seguono un circuito chiuso che torna nello 0 toccando in ordine tutti gli altri numeri. Questo simboleggia il fatto che quando aggiungete 1 state aumentando di 1 al resto a meno che non siate già sul 6 e aggiungendo 1 andreste a 7 e quindi il resto torna ad essere 0. Ok, svelate anche le linee blu. Le linee verdi, che sono meno evidenti, simboleggiano il resto quando andate a moltiplicare per 10 e dopo vediamo perché effettivamente la moltiplicazione per 10 è ciò che ci serve. Facciamo un esempio facile e ve ne spieghiamo giusto una. Se partite dallo 0 e moltiplicate per 10 chiaramente ottenete 0 e quindi lo 0, come vedete, ha un cappio che torna in se stesso. L'1, se lo moltiplico per 10, fa 10 e il resto di 10 diviso 7 è 3. Infatti la linea verde che esce dall'1 va a finire nel 3. Questo viene replicato per tutte le altre. Adesso che abbiamo visto come costruire il grafo possiamo vedere perché funziona con il metodo che abbiamo applicato. Ripercorriamo quello che abbiamo fatto per ottenere la divisibilità o meno di 1468 per 7. Per prima cosa abbiamo detto partendo da 0 seguiamo le linee blu pari al numero più a sinistra in questo caso era un 1 e quindi abbiamo fatto più 1 ottenendo come risultato questo. Poi abbiamo seguito una linea verde abbiamo detto che seguire una linea verde vuol dire moltiplicare per 10 quindi da 1 abbiamo ottenuto 10 come numero. Poi abbiamo seguito delle altre linee blu quante? Beh, pari al numero delle centinaia quindi dal nostro 10 abbiamo aggiunto 4 ottenendo 14. poi cosa abbiamo fatto? Beh, ci siamo spostati in un'altra cifra quindi abbiamo ancora moltiplicato per 10 e abbiamo ottenuto 140 abbiamo seguito 6 frecce azzurre che sono quelle delle 6 decine ottenendo 146 abbiamo di nuovo moltiplicato per 10 ottenendo 1460 e infine abbiamo aggiunto le ultime 8 frecce blu arrivando proprio a 1468. Due osservazioni questo è forse, se non l'unico uno dei metodi più intelligenti per applicare in modo iterativo un procedimento. Due, e questo non ve l'abbiamo detto all'inizio adesso che avete i numerini vi rendete conto che non solo questo metodo vi dice se effettivamente il numero è divisibile per 7 oppure no ma vi dà anche il resto che è proprio il pallino sul quale finite quindi 1468 oltre a non essere divisibile per 7 ha questo resto. Adesso però proviamo a costruire qualcun altro di questi grafi e vediamo se riusciamo a ricostruire i criteri di divisibilità che tutti conosciamo. Partiamo dal criterio di divisibilità per 2 il grafo sarà fatto con due vertici perché il resto può essere solo 0 o 1 le linee blu saranno una linea che va dallo 0 all'1 e una che va dallo 1 allo 0 le linee verdi ve le costruiamo subito dobbiamo moltiplicare per 10 quel numero e guardare il resto nella divisione per 2 quindi 0 per 10 fa 0 e quindi resta un cappio 1 per 10 fa 10 che è diviso per 2 da resto 0 e quindi abbiamo una freccia verde che va dal 1 allo 0. Proviamo già ad applicarlo ad esempio proviamo a vedere se 237 sia divisibile per 2 oppure no. Devo partire da 0 devo muovermi di 2 frecce blu quindi 1 e 1 a 2 e sono tornato sullo 0 seguo la freccia verde e quindi resto lì poi mi muovo di 3 1, 2, 3 e sono finito sull'1 ma ora devo avere la freccia verde da seguire e quindi torno sullo 0 ancora e adesso beh mi muovo di 7 quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sono finito sull'1 no! 237 non è divisibile per 2 e il resto è 1 decisamente inaspettato ma la cosa interessante da vedere è che da qui riuscite a capire perché il criterio di divisibilità per 2 ovvero un numero è divisibile per 2 se e solo se lo è la cifra dell'unità risulta valido infatti se avete notato indipendentemente dal finire sullo 0 o sull'1 quando seguiamo la freccia verde torniamo sullo 0 questo significa che tutte le volte che noi seguiamo la freccia verde cioè ci spostiamo è come se ripartissimo da capo pertanto vuol dire che tutte le cifre prima dell'unità non contano nulla posso soltanto controllare quella proviamo a vedere adesso la divisibilità per 3 beh avrà 3 vertici il nostro grafo perché i possibili resti sono 0,1 e 2 le frecce blu sono come al solito da 0 a 1 da 1 a 2 da 2 a 0 le frecce verdi le 0 per 10 come al solito fa 0 e quindi resta lì col suo cappio 1 per 10 quando lo dividiamo per 3 fa 9 con il resto di 1 e quindi avrà un cappio pure lui perché deve rimanere in 1 e il 2 2 per 10 fa 20 e quindi 18 con il resto di 2 anche lui ha un cappio che resta lì vediamo che cosa succede quando lo applichiamo ad esempio a 237 beh parto mi muovo di 2 quindi 1, 1, 2 e sono sul 2 faccio la mia freccia verde che è un cappio e quindi resto lì mi muovo di 3 1, 2, 3 e sono ancora sul 2 seguo ancora il cappio e quindi resto lì di nuovo e poi mi muovo di 7 1, 2, 3 4, 5, 6 7 sono andato sullo 0 quindi il 237 è effettivamente divisibile per 3 avete visto cosa è successo? quando ci spostiamo con le nostre cifre seguire la freccia verde non ha nessun effetto perché rimanete sempre nel numero dove eravate in precedenza questo significa che voi potete semplicemente seguire le frecce blu in maniera continuativa dall'inizio alla fine cioè potete seguire le frecce blu pari a la somma di quelle cifre cioè il numero divisibile per 3 se e solo se lo è la somma delle sue cifre ovviamente potete scegliere il divisore che più vi piace potete scegliere il 5 o il 9 con cui si vedono abbastanza bene i criteri di divisibilità oppure il 7 o l'11 in cui sono un pochettino più nascosti ma la cosa su cui vi vogliamo far ragionare è che il metodo è talmente versatile da poter essere esteso ad altre basi immaginiamo di avere un numero scritto in base 8 invece che in base 10 e di voler verificare la sua divisibilità per 5 come sarà fatto il grafo della divisibilità per 5 in base 8 e questo era quello in base 10 questo è quello in base 8 la struttura è decisamente diversa che cosa cambia? beh cambiano innanzitutto le frecce verdi perché? perché questa volta non dovremo moltiplicare per 10 visto che la base non è quella ma dovremo moltiplicare per 8 ma poi il principio funziona esattamente uguale è meravigliosamente generale e come regalo vi lasciamo in descrizione un bellissimo programmino che vi genera in automatico il grafo della divisibilità che volete prima di lasciarci vi lanciamo anche una piccola sfida questi grafi se usati opportunamente quindi cambiando magari i colori magari colorandoli all'interno o spostando le frecce possono diventare delle bellissime opere d'arte mandatecene qualcuna o su Instagram o su Facebook provvederemo a pubblicare quelle che secondo noi saranno le più meritevoli ma siamo sicuri che saranno tutte meravigliose anche per oggi se il video vi è piaciuto mettete un bel like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al MaxSegnale e attivate le notifiche così non vi perdete i prossimi video ciao ragazzi sono tornato sullo 0 e quindi il numero è divisibile per 0 no è divisibile per 0 però devo rifare Grazie a tutti.